Ciao amori, oggi vi faccio una bella ricetta con le melanzane! Allora, mi raccomando, lavatele prima di tagliarle, va bene? Adesso andiamo a coce, va? Vai! Facciamo scaldare un filetto d'olio. Adesso le faccio cuocere 5 minuti per ogni lato. Eccole qua le melanzane, eh? Allora, non sombrattate di olio, eh, vedete? Qui abbiamo 100 grammi di mortadella e 250 grammi di mozzarella a pasta filata. Inizio con un goccettino d'olio, eh? Ho fatto il primo strato di melanzane, adesso metto la mozzarella, mortadella, due cucchiaini di parmigiano, di nuovo melanzane, mozzarella, mortadella, altri due cucchiaini di parmigiano, una grassata di pepe. Finiamo con le melanzane, un goccio d'olio, due cucchiaini di parmigiano, una manciatina di pangrattato. Adesso al forno già caldo a 170 per una ventina di minuti. Vai! Eccolo qui, appena sfornato, eh? Eccolo qua, eh? Fatelo perché è buonissimo, eh? Guardate che delizia, ragazzi, che spettacolo! Guardate che goduria, una meraviglia! Grande Gildarella e adesso un bacio a tutti dalla cucina di Gilda! Prendere e adesso un bacio a tutti dalla cucina di Gilda! Grazie.